Buongiorno a tutti, oggi è martedì, martedì 6, 6 luglio, sono già in A14, ho lasciato la pioppa, poco fa, e adesso comincia il viaggio di avvicinamento a Murphy, per il momento traffico ce n'è, ma non è così proibitivo, in coda aggiusta qualcosa in direzione nord, sono qua, loro che sembra che avevano la prima corsia chiusa e gliel'hanno aperta sull'ora, da qualche parte il CB diceva che c'era un bicicletta contromano, un tangenziale, ma non l'ho visto, forse, forse è già uscito, vabbè, noi adesso, lo seguiamo, ciao a voi! Questo piccolo daily, cosa vuol fare? Perché vuol entrare? Ha paura di perdere il camion davanti, ciò che sono 100, ma non l'hai! Certo che se il camion lì tirasse giù quei 2 km l'ora dal cruise control, il bilico finisce verso il passo e se ne va via, dai! Si va bene! Visto che ce li ho attaccati davanti io, ora allento io, cerco di passare, vediamo un tra un po' più grande, io sì, di nuovo la mancina, con anche se non lo che ho tiene, non lo è, ora allo anche l'ora dal 4 e al 4, non lo riesce a vivere, un'ora di ok, da undattività, è un'ora che non c'è, da un po' più grande che non ci sono l'ora di passare, comunque il nostro provincio è rosa, anche roba a dire, non lo roads, e le vado, mi chiedono anche un'ora pubblico, da un'ora, No. No. Decisamente, no. Grazie a tutti. Niente. Che faccio? Proseguo l'elefante e non rende? O ci rinuncio? E' un po' qui sono. Un po' la finisco, un po' la finisco, però ci dè anche loro. Un po' la finisco. 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 Poi dopo c'erano di passarli e si sono rimessi ad andare a quasi 90 km all'ora. Ormai li ho passati però adesso c'è il camper. Non è che lì sia così lontano però potevo anche rientrare ma adesso c'è il camper attaccato qua. Il bike con la figuraccia è quello che non molla il gas neanche per un attimo perché lui deve passare. E' che cacchio. Ma devo stare lì. Buon alletto. Fine dell'Elefantenrennen, a poi. Piccola sosta tecnica qui alla Montefeltro Ovest. E' già un'ora e mezzo che sono partito dalla Pioppa. Opa. Opa. Pia. 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 Lì c'è un posto, c'è un autobus portatore identica. Lì c'è un posto, c'è un posto. C'è un posto, c'è un posto. Non sono convintissimo del parcheggio bello ma... L'attacco per mandato, pompa è libero. Non devo stare fermo a lungo, speriamo non ci sia bisogno. Ora devo andare, ma poi. Sosta tecnica finita. Lasciamo Montefeltro Ovest. Non sentiamo di metterci in autostrada senza... No dai. A parte quest'automobilista qua, gli altri si sono già tutti spostati. E poi sono duri. Si sono spostati di loro. Così si mi resta. Meglio così. Riprendiamo il viaggio. La vai. Sono ormai le 9 e 10. Qui in A14 tutto tranquillo. Sono passati già alcuni cantieri. Qui non c'era coda, per fortuna. Non c'era niente. Adesso aspettiamo però di arrivare in Abruzzo. Qui nelle Marche ancora... E' ancora molto tranquillo. Non sono neanche arrivato ad Ancona. Ci vediamo più avanti, ragazzi. In fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Le strutture del porto di Ancona. Ma molto in fondo, eh. Eh, ecco. Ancona è passata. non da molto e adesso proseguiamo oggi a 307 ma poi siamo a Porto Santo Elvide l'autostrada qua si stringe ci sono già i cartelli che avvisano dopo che daso due chilometri di coda per lavori una della serie attenti che state per lasciare le marche ora ora comincia il bello vabbè ma poi ragazzi